Il maltempo non vuole dare tregua alle terre emiliane e romagnole. E anche nello scorso fine settimana pioggia e grandi ne hanno flagellato la nostra regione, il Veneto e le Marche, causando purtroppo anche delle vittime. Io mi trovo a Filo di Argenta, una delle zone della provincia di Ferrara più colpite dalla pioggia proprio nei giorni scorsi. E accanto a me c'è l'assessore provinciale all'agricoltura e alla protezione civile Stefano Calderoni, che purtroppo in questi pochi anni di mandato ha avuto a che fare con terremoti, siccità, allagamenti. Questi ultimi in particolare frutto dei cambiamenti climatici, che ormai, l'abbiamo già detto tante volte, stanno caratterizzando questi anni. Allora, assessore, non è mai piacevole fare la conta dei danni, ci ne rendiamo conto, ma è però necessario per fare un quadro il più completo possibile di quello che è successo e per dare anche delle informazioni agli agricoltori che sono stati colpiti. Cominciamo proprio dando dei numeri, cioè quanta pioggia è caduta e quali sono le zone in cui proprio la pioggia ha causato più danni. Sì, ovviamente il primo presupposto è che questo tempo bizzarro in realtà colpisce Macchia e Lopardo, per cui abbiamo punti della nostra provincia in cui non è venuto nemmeno un millimetro di pioggia e contemporaneamente altre zone in cui sono precipitati 120 millimetri nel giro di poche decine di minuti. Quindi davvero un fatto straordinariamente nuovo, sconosciuto anche per la nostra provincia, proprio perché vi è un'intensità e l'evento atmosferico assume una portata ampissima in zone molto ristrette al nostro territorio. I comuni più colpiti sono stati i comuni di Fiscaglia, dove il commissario perfettizio ha già inviato alla regione una richiesta per il riconoscimento dello stato di calamità, il comune di Copparo, il comune di Berra, alcune zone sparse dall'Alto Ferrarese e ovviamente Filo, Ostellato e la zona del Mezzano, dove si sono abbattute purtroppo forti precipitazioni non solo a carattere piovoso, ma anche imponenti grandinate che hanno prodotto danni alle colture più specializzate, in particolare alla frutticoltura, che purtroppo per il terzo anno consecutivo si vede compromessa la produzione proprio in ragione di una serie di eventi atmosferici che da questo punto di vista non possiamo che definire avversi. Sappiamo che purtroppo è presto per fare appunto una stima dei danni, però diciamo abbiamo detto che appunto sono state colpite le frutticole, ma anche le estensive. Sì, sicuramente una stima più precisa avremo nelle prossime settimane, già quest'oggi ci riuniremo insieme alle organizzazioni agricole per fare la conta dei danni, per iniziare a mappare il territorio. Certamente stiamo ancora parlando purtroppo e drammaticamente di diversi milioni di euro di danni distribuiti su tutto il territorio della nostra provincia. Come dicevo però solo le prossime settimane ci daranno un risponso ufficiale perché se oggi già sugli impianti frutticoli possiamo rilevare gli effetti di questo fortunale che si è abbattuto venerdì sulla nostra provincia, per quanto riguarda invece gli estensivi la valutazione potrà essere fatta solo successivamente perché dovremmo cercare di capire il ristagno di acqua che tipo di danni ha prodotto, perché in particolare uno dei pericoli che noi stiamo valutando è quello della sfissia radicale che rischia di determinare appunto l'amoria delle piante che sono state seminate, sia per quanto riguarda gli estensivi ma anche per quanto riguarda le orticole, quindi pomodoro, melone, cocomero, fragolo, insomma produzioni molto specializzate che rischiano di compromettere l'intera annata dei nostri agricoltori. Ecco, invece per quanto riguarda le strutture come capannoni o ricoveri per le attrezzature avete notizie di danni anche lì o almeno quelli li abbiamo salvati? Fortunatamente possiamo dire che per quanto riguarda le strutture gli immobili danni non se ne rilevano se non ovviamente qualche allagamento che ha compromesso alcune attrezzature all'interno degli stessi stabili, però diciamo che di per sé le strutture sono rimaste intatte. Noi siamo una trasmissione di agricoltura e quindi parliamo di agricoltura, ma lei è assessore anche alla protezione civile e noi non possiamo non parlare di quello che è successo in alcune frazioni del comune di Fiscaglia appunto, quindi parliamo anche dei cittadini che non fanno gli agricoltori e che davvero se la sono vista brutta. Assolutamente sì, sono state ore difficili per noi e soprattutto appunto per i cittadini che hanno visto le proprie case invase dall'acqua, 30-40 centimetri, difficoltà, ovviamente preoccupazione anche per chi risiede in zone che in questo momento dobbiamo definire a rischio a questo punto perché evidentemente anche l'evolversi dei fenomeni, i cambiamenti climatici come veniva ricordato prima ci devono spingere ad avviare nuove riflessioni anche sulla sicurezza idraulica del nostro territorio, quindi noi ci stiamo impegnando per questo. Quello che abbiamo fatto, come è stato detto, è attivare tutte le procedure necessarie per il riconoscimento dello stato di calamità perché crediamo che i cittadini che abbiano subito dei danni debbano veder ripagati questi danni sia per le abitazioni civili ma anche per le nostre attività produttive.